Vi faccio un esempio, le aziende online ultimamente, YouTube, Spotify, ma anche le app di incontri tipo Tinder creano intanto fidelizzazione dando un prodotto di altissima qualità gratuito. Facebook per esempio è completamente gratuito, YouTube è completamente gratuito. Vi scrivete, fate le vostre cose, diventate social, caricate i vostri video, usate Tinder per sfogliare le foto di altri utenti e fare incontri, cose di questo genere. Queste app diventano parte di voi, diventano parte della vita quotidiana, ne sentite la necessità e le aprite più volte al giorno. Ad un certo punto questa cosa che è un'abitudine e un'esigenza insieme ed è molto radicata, queste aziende aggiungono delle funzionalità. Per esempio in YouTube aggiungono per i creator il fatto di poter gestire la community, il fatto di mettere sticker, tutta una serie di potenzialità in più. Stessa cosa Facebook per tutti quelli che ci lavorano ha creato il business manager e adesso ha creato Workplace che è a pagamento. Spotify che vi ha permesso di ascoltare la musica per un sacco di tempo gratuitamente in streaming, crea la versione premium e dice adesso potrei ascoltarla anche offline, non avrai più le pubblicità, eccetera, eccetera. Tinder, l'app di incontri, voi potete sfogliare, destra e sinistra, mi piace o non mi piace le varie foto, poi ad un certo punto finite il numero di swipe che potete fare. Se volete farne altri dovete pagare e così per avere un tono di messaggi da mandare, eccetera, eccetera. Ecco, tutti questi upsell funzionano perché la gente intanto come dicevamo ha l'esigenza, perché se sono tutti collegati su Facebook devo esserci anch'io, se sono magari un musicista emergente devo pubblicare su YouTube per farmi conoscere, eccetera, eccetera. Quindi hanno creato l'esigenza, in più hanno creato l'abitudine perché abbiamo lo smartphone in mano tutti i giorni e continuiamo a guardare le app più volte al giorno, ad un certo punto siamo stufi di vedere le pubblicità su Spotify, su YouTube, oppure ci serve Workplace per lavorare su Facebook, oppure abbiamo uno studio medico e nella sala d'attesa mettiamo Spotify, vogliamo togliere le interruzioni, eccetera, eccetera, e quindi paghiamo Spotify Premium. Questi sono upsell che le aziende digitali fanno in maniera strategica, quindi offrono un servizio gratuito e poi lo trasformano a pagamento in base alle esigenze che avete e in base a piccole limitazioni o funzionalità aggiuntive che possono servire agli utenti che lo usano più di frequente. Chiaramente poi una volta che parte la campagna della strategia Premium, diciamo, gli utenti si spaccano in due. Ci sono quelli che non interessa spendere e vogliono continuare a utilizzare il servizio gratuito, che di solito sono la maggior parte ovviamente, perché di Spotify magari non mi interessa sentire la pubblicità ogni tanto, continuo ad ascoltare le mie canzoni in maniera free. E non mi interessa ascoltarle offline perché ho già delle mie playlist, ho i miei cd, ho la mia pennetta in macchina, eccetera, eccetera, continuo ad ascoltare solo quando mi serve. E poi l'altra fazione è quella che invece decide, no, io voglio o per necessità o per sfizio personale o perché i 9 euro al mese non mi pesano, pago Premium di Spotify e mi ascolto la musica offline, senza pubblicità, eccetera, eccetera. Ecco, le aziende si fanno anche due conti su quello che succederà attivando una funzione Premium e sanno già che un tot di persone pagherà e un tot no. Spesso però, siccome c'è questa abitudine così radicata, questa esigenza magari tecnica, le persone che si registrano sono decisamente di più delle aspettative. Ecco che qua le aziende digitali fanno veramente un guadagno incredibile. Perché vi racconto tutto questo? Perché se vi affacciate nel mondo digitale, è proprio una strategia, un po' è un trend, ma è proprio una strategia che funziona, iniziare a offrire un servizio gratuito in modo che l'utente si avvicini a voi, vi conosca, capisca la qualità, capisca se ha l'esigenza del vostro servizio, dopodiché una volta che è fidelizzato potete offrire un prodotto Premium, un prodotto a pagamento. C'è la tendenza, lo vedete anche nei social e un po' in tutti i freelance, che offrono dei corsi gratuiti, delle lezioni gratuiti, dei mini video, delle mini guide, cose di questo genere, per far sì che l'utente possa fidelizzarsi e poi ad un certo punto vendere il corso intero ad un certo prezzo, eccetera, eccetera. Ditemi anche voi se avete delle strategie di questo genere, se fate upsell, vi invito a seguirmi sia su Instagram che su YouTube.